Qual è la tua opinione sulla gara? Hanno trovato subito la via del gol, poi sono stati molto bravi a gestire la gara senza concedere troppo agli avversari. Una vera prova di forza. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie. Grazie. Grazie.